Il Teramo cambia location per il ritiro estivo dopo Vindoli, due stagioni orsono con Lamberto Zauli e Alfedena nel 2017 con Antonino Asta. Stavolta il diavolo preparerà la prossima stagione in casa. Nessuno spostamento dunque, tutto al Bonolis. Sarà l'occasione per avere i tifosi a pochi passi e far conoscere loro i nuovi arrivi. Peraltro la questione logistica inciderà anche sull'organizzazione delle amichevoli che nelle intenzioni della società dovranno essere numericamente superiori rispetto alle scorse annate. Per quanto riguarda le trattative, invece, per il ruolo di portiere piace come il ventenne estremo difensore della primavera dell'Inter Marco Pissardo, che ha appena vinto il campionato battendo in finale la Fiorentina. Sandro Federico lo ha osservato e ne ha tracciato un profilo molto positivo. Pissardo nel 2016-2017 ha già avuto un'esperienza in Serie D, Girone A, con la maglia del Varese e adesso potrebbe lasciare la Lombardia per andare in prestito e continuare il processo di maturazione, magari con la maglia del Teramo. Questo perché serve un profilo da affiancare a Lewandowski e il giovane di Verbagna sarebbe l'uomo ideale. Poi perché la collaborazione tra il Diavolo e la società dell'Azzurra pare molto vicina e questo potrebbe spalancare le porte a più di un talento proveniente da Milano. Come ad esempio il ganese Stefan Danzo, che potrebbe giocare indifferentemente sia da centrale in mediana che da mezzala sinistra. Anche Danzo è un classe 98. Dunque, con un giusto mix tra giovinezza e quella esperienza, seppur minima, Calteramo servirà per fare un campionato che si preannuncia. Comunque, ancora complicato. Per questo, Zichella e Federico vorrebbero in organico due calciatori che hanno nel proprio palmarès già più di un trofeo, seppur primavera. Nel frattempo, però, il patrone biancorosso Luciano Campitelli sta anche valutando l'eventuale allargamento della base societaria. Potrebbero essere discorsi anche molto rapidi e che potrebbero, se andassero in porto, rimescolare le carte del mercato che il diavolo ha impostato, seppur solamente a grandi linee.